questo è il metaverso il nostro mondo virtuale possiamo caricare di tutto vestiti equipaggiamento nft piedini anime tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento siamo all'interno di un programma ci sono anche le waifu anche se in realtà non so se a te possono interessare visto che non so neanche se sei maschio o femmina il programma carica una skin casuale per tutti che puoi modificare solo in futuro ma non so se te la sei già cambiata o meno 6m o f questo non è reale no chi non lo è sono tutti i modelli 3d 6 f